Rafforzare le competenze digitali degli studenti in territorio a rischio e dispersione scolastica e indirizzarli all'orientamento. E questo è l'obiettivo di Elev8 Missione Futuro, il progetto didattico nazionale di Next Nivel finanziato e cosviluppato con Fondazione Vodafone. Il luogo scelto è Didacta Italia Edizione Puglia, il più importante appuntamento fioristico sull'innovazione nel mondo della scuola che si è tenuto nel capologo pugliese. Elev8 Missione Futuro ha come obiettivo offrire a studenti di tutta Italia gli strumenti digitali per esplorare le proprie inclinazioni e nuove opportunità durante il proprio percorso scolastico e orientarsi nelle scelte formative e professionali post diploma. Nata per rivolgersi ai cosiddetti NIT, ragazzi che non studiano e non lavorano, Elev8 è presente da diversi anni anche nelle scuole secondarie di secondo grado, come strumento in grado di portare il digitale tra i banchi di scuola in modo innovativo e divertente e offrire un contributo al contrasto alla dispersione scolastica. Sempre a Didacta Puglia, Next Nivel ha presentato il Viaggio nell'Orientaverso, il nuovo format di gioco su Elev8, sviluppato ad hoc per questo progetto da Fondazione Vodafone insieme a Next Nivel e tanti studenti e docenti, in cui i giovanissimi dovranno affrontare sfide e risolvere enigmi per uscire da un escape room e soprattutto imparare a usare il digitale per orientare il proprio percorso formativo e lavorativo.